Si racconta che il vero paradiso non sia in cielo, ma sulla bocca di una persona. Poi capita di vederlo spalancare la bocca e dire soltanto cazzate. E questo signore ne dice di cazzate. Di seguito noterete molti commenti. Non belli, forse li merita. Noi però gli diamo un consiglio. La prossima volta cerca di aprire la mente, prima di aprire la bocca. Grazie a tutti.